Il Veneto guarda l'Europa e i suoi sistemi sanitari di eccellenza, strade maestre su cui, inserendo la diretta esperienza maturata in questi anni, la Regione ha inteso tracciare le linee guida per i propri interventi sanitari. La quinta commissione del Consiglio regionale Veneto ne ha discusso in una riunione a cui ha partecipato gli assessori della sanità Coletto e al sociale Lanzarin, ma anche il direttore dell'area sanità Mantoan. Il piano si concentra ovviamente su quello che sono le materie importanti del sistema sanitario, la suddivisione anche per branchie di riferimento, la parte delle cure territoriali, la riabilitazione, la cronicità. E non sono questi gli unici aspetti. Il mantenimento degli ospedali esistenti, gli ospedali non si toccano. Il fatto dei medici di base, diciamo che scrivere per la prima volta sul piano sociosanitario che si possono prevedere medici di base assunti direttamente è una novità molto forte. Si cerca di, dopo la riforma che è avvenuta della sanità con la legge 19, si cerca di mettere in atto quello che è l'organizzazione del territorio del sistema sanitario, oggi con il piano sociosanitario che ne delinea la guida e successivamente con le schede ospedaliere che andranno a definire quello che sono i reparti, quello che sono i posti letto nei vari ospedali. Il piano, richiamando l'accordo preliminare il sottoscritto con il Governo nazionale in materia di autonomia, introduce uno spazio per l'autonomia differenziata per la regione anche in ambito sanitario. La parte risorse, ovvero il fatto che il Veneto nell'autonomia potrebbe acquisire, anzi acquisirà sicuramente risorse da impiegare nel sistema che ha bisogno di efficientamento, parliamo di investimenti negli ambiti delle strutture ospedaliere, nell'assunzione di medici, nelle assunzioni di professionisti, infermieri e nella tecnologia e dall'altra parte la possibilità di assumere. Oggi la difficoltà maggiore è quella del blocco delle assunzioni, sappiamo venire su una legge del 2004 che ci impone la riduzione delle spese sul personale che con l'autonomia viene sbloccata, a quel punto diciamo che il fabbisogno del personale medico e sanitario negli ospedali dovrà trovare giusta copertura.